Salve, allora ritorniamo su Ghost Recon Wildlands e ci andiamo a fare la prossima missione Siamo in questa zona qui, questa qua regione, qua, abbiamo questa influenza, infatti sono di vista in diverse zone, e sono parecchie, c'è contrabbando, sicurezza, influenza, e noi siamo andati qui, quindi direi di farci la prima missione, assistente di Carzita Se troviamo un posto magari più vicino faremo lo spostamento rapido, ma non credo che ci sia, quindi mi tocca andare da qualche altra parte, evidentemente si, perché, ah no, aspetta, c'è un elicottero, quindi prendiamo l'elicottero e ci vediamo lì, eccoci qua, ragazzi abbiamo preso questo elicottero che non è proprio dei più veloci, però comunque, ci vediamo, allora cercheremo di arrivarci in zona, il problema sarà pure dove mettere l'elicottero, ecco qua siamo già vicini, anche troppo direi, che cazzo, aspettate, atterriamo qui giù, ah, noi vicino l'acqua, però gentilmente, magari qui, va bene, dai, ah no, oh, 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 atterraggio perfetto, il problema è salire, riusciranno i nostri famosi soldati a salire sulla montagna lo scopriremo in questo episodio come cazzo salgo io? che questi non fanno nemmeno i salti per arrampicarsi come si deve avanti vedo un arco armato di mitra accanto all'ingresso dell'edificio eh segnate segnate io cercherò di salire se ci riesco ma è così grande dai dai niente c'è un sicario armato di mitra non vedo nessuno all'ingresso del campo vabbè proviamo dall'altra parte va non ci riusciamo a salire che bello ma che cazzo vabbè proviamo sentite reminateli voi non rompete le palle facciamolo sentite se la metto qui rompe le palle non rompe le palle andate a cagare ecco cercheremo di avvicinarci lentamente versagli nemici vicini ehi sicario armato di mitra siamo qui l'assistente di carsita ha dei segni particolari non siamo sicuri al cento per cento ma dovreste avere qualche cimice a disposizione piazza le cimici senza farti vedere ma cazzo grazie a cazzo non fatevi vedere gente piazzate le cimici e sparite senza lasciare traccia eh la fate facile eh potrebbe venire a qui magari eliminare questi due ho qui una di quelle medaglie del cartello un sicario ne sentirà la mancanza non lo so ma dai allora vediamo porca miseria ma se usassi il diversivo ho una sorpresina per questi ombres vediamo se viene ehi c'è un arco armato con un mitra per l'ingresso del campo maledizione qua non si ferma lì ma io ci proverei ma e una aspettate l'altra dov'è qua dietro il quadro ovvio ebbè dove si poteva mettere è qui là c'è ne uno c'è il torneo di texasol demma del santa plantà c'è chi appaga si cadro io ebbè fuck l'assistente di carcetta ora andiamo ce n'è usciamo posso buttarmi di sotto via 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 olè ok dai andiamoci a fare pure questo ok dai abbiamo preso il suo motoscafo siamo qui vicini alla missione intanto piove ora vediamo cosa ci tocca fare sotto piazzeria dei civici non è stata facile la prima volta m'ho beccato ma dettagli allora dove attacco? attacco qui? scendiamo ombre vediamo di salire in qualche modo dai dai cazzo noi siamo dagli arrambicatori provetti su dai cazzo dai che palle che non si arrampica come vorrei ho preso tutto il giro dell'isola dai dai cerchiamo delle informazioni no ok ok siamo vicini dai signor non si preoccupi diamo solo un'occhiata non potremmo inscenare un disastro chimico per far scappare la gente dal casino ebbè non dobbiamo limitarci a rovinare una giornata di guadagni al casino vogliamo fargli proprio tutta le bottega addirittura e aspettate aspettate qua mi sa che ok via 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 eh ho visto ho visto oh ecco cane Siamo in un po', non dai, sono in questo edificio, bravi, bravi, segnato, segnato. Ok, vediamo qua di vedere chi c'è in giro. Siamo in drone? Salve! C'è anche un'elicottero e una macchina Ma ce ne sono due Qui c'è qualcuno Sembrerebbe di no E sono cinque Porca Porca sozza Uccidi l'assistente Eh se avessi una mira C'è una postazione migliore Un colpo di cecchino non Come dire Non lo avrebbe nessuno Versagli marcati in attesa di ordini Versaglio acquisito Pronta ad andare Quello è fottuto Yes Andiamo così Io vorrei provare una postazione migliore E' possibile Ehi sicario armato Dimitra Accanto alla torretta C'è un giacchino C'è un giacchino Mi sembrano un po' nervosi L'assistente è morto Ripeto l'assistente è morto Non ci vorrà molto perché Carzetta si occupi di persone dei suoi affari Via 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 vediamo un po completata c'è il casino da fare e questo lo faremo nella prossima puntata ciao ciao